Ciao amiche e ciao amici, come capire se gli manchi? Allora, è importante capire se manchi una persona perché da quanto gli manchi diciamo che è proporzionale al livello di innamoramento cioè una persona è innamorata tanto quanto gli manchi se non gli manchi per nulla significa che è innamorata per nulla, diciamo così o perlomeno, come dire, sta vivendo una relazione magari a livello prevalentemente sessuale o a volte anche amichevole, insomma, però non c'è pathos, non c'è emotività perché quando c'è emotività tu manchi a una persona e allora come fare a capire quindi il livello di innamoramento? Beh, intanto ci sono due modalità, non serve a niente quello che lui ti dice cioè uno che dice mi manchi o una che dice mi manchi non ha nessun significato perché a parole, diciamo così, possiamo dire qualunque cosa però dobbiamo tenere presente questo che nel momento in cui siamo coinvolti, nel momento in cui una persona ci manca mettiamo in atto dei comportamenti particolari cioè le nostre parole, diciamo, sono di un certo tipo possono essere qualunque ma i nostri comportamenti comunque vanno in una direzione specifica intanto c'è anche una comunicazione non verbale specifica cioè se una persona ti manca tu darai segnali di gradimento quando sarai in presenza di questa persona quindi tenderai a avere tutti i segnali di comunicazione non verbale positiva che ho spiegato in altri video saranno dirottati verso questa persona la postura verso questa persona il tempo, tendersi verso questa persona, i piedi puntati sono tutti i segnali che abbiamo visto e questo è il primo punto poi ci saranno dei comportamenti per cui quando una persona ti manca si invertono i codici di piacere e sofferenza vuol dire che trovi piacevole fare delle cose per questa persona che normalmente non gradiresti fare cioè se una persona ti manca tu cerchi tutti i modi tutte le modalità per passare del tempo con questa persona a meno che la tua parte emotiva non è innamorata del fatto della mancanza allora diciamo che ti metterai bastoni tra le ruote ma la tua parte logica cercherà comunque di fare qualunque cosa per passare più tempo con questa persona quindi cercherai di tutte le occasioni per vederla se tutte le occasioni sono quelle per non vederla allora vuol dire che c'è poca mancanza vuol dire che di fatto non ti interessa poi tanto emotivamente di quella persona o magari ti nutri del fatto che questa persona è presente nella tua mente ma di fatto non c'è questo grande coinvolgimento e quindi farai anche delle cose che normalmente non ti piace fare perché non è tanto diciamo si crea una simbiosi ecco il fatto che quando una persona ti manca si crea un rapporto simbiotico quando non è importante quello che tu fai ma è importante farlo con questa persona se invece non c'è una simbiosi ma c'è solo un rapporto per dire di simpatia o di empatia e beh allora la cosa passi una bella giornata una giornata piacevole se con quella persona fai qualcosa di piacevole cioè che bello abbiamo visto un film che bello che era questo film poi ho passato una bella giornata se invece il film è brutto dirai oh che brutta giornata che ho passato siamo andati a quel film lì a quel cinema proprio un brutto film che brutta giornata e allora invece se una persona ti manca tu potresti che ne so a vedere il film più schifoso del mondo ma hai passato comunque una bella giornata perché sei in presenza di quella persona quindi un modo è fare qualcosa diciamo fargli fare qualcosa non trovare tutte le cose migliori da fare che piacciono a quella persona ma dare degli stimoli anche di cose che sai che non gli piacciono tanto ma nel momento in cui lui si manifesta soddisfazione vuol dire che lo fa perché ci sei tu perché è la tua presenza e quindi vuol dire di fatto che gli manchi questo è il modo per capire se manchi veramente a una persona bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale potrai fare una domanda postata nei commenti ad un video e ricevere un video di risposta il servizio è gratuito vale solo per iscritti al canale quindi iscriviti al canale e se questo video ti è piaciuto metti un mi piace condividilo con i tuoi amici ciao